In occasione dei 30 anni di Rossella Urru, la cooperante rapita ad ottobre scorso in un campo profughi nel sud dell'Algeria, il ministro degli esteri Giulio Terzi ha rilasciato una dichiarazione. Desidero rivolgere in questa occasione, che ha una forza simbolica così importante, un pensiero affettuoso, solidale ai familiari e a tutti i numerosissimi amici e sostenitori di Rossella. È un impegno quello che viene chiesto e auspicato dalle famiglie e da così ampie fasce dell'opinione pubblica italiana e degli appelli che mi vengono continuamente dalla Sardegna per riportare alla sua famiglia questo valoroso cooperante, l'espressione più umana e più importante di quella che è l'attività di volontariato e di dedizione al prossimo. Ecco, gli appelli che ci giungono e che sono sicuro marcheranno anche questo suo compleanno, sono assolutamente in sintonia con quelli che sono i sentimenti del governo e i miei personali in questo momento. Ci incoraggiano ancora di più se possibile, ci sostengono anche nell'azione discreta che stiamo portando avanti con grande sforzo appunto per riportare Rossella e i suoi familiari.